Leo, mi racconti l'ultima puntata del TopoDopo? Va bene Tina, però prima ti faccio sentire una cosa. Cosa? La sigla del TopoDopo. La sigla? Sì, la composta TopoJoe. TopoDopo, TopoDopo. Raccontami l'ultima puntata, voglio sapere come finisce. La ultima puntata la puoi vedere su YouTube. Guarda, c'è il film completo. Oh, quanto dura? Quasi dieci minuti. Che bella!